Fermati, fermati, fermati e ascoltami un attimo. Devo essere molto sincero, nell'ultimo periodo sono successe delle cose straordinarie nella mia vita. Delle cose che onestamente non credevo neanche di meritare, ma fatto sta che sono riuscito a riceverle. Per cui dal profondo del mio cuore credo che sia arrivato il momento di dare qualcosa in più. Devo dare qualcosa in più a questo universo. Ed è per questo specifico motivo che ho deciso di fare dei regali. Devo dare di più. Voglio dare di più. A tutti coloro i quali decideranno di investire in Master 10K Cell Publishing Edition o nel percorso tailor-made di consulenze private con Fabiana. Ora qualcuno potrà chiedermi cosa sarà mai questo qualcosa che vuoi dare. Giusta domanda te lo dico subito. Voglio donare e regalare il mio tempo, le mie consulenze, la mia esperienza, le mie competenze. Tutto ciò in regalo per coloro i quali decideranno di accedere a Master 10K Cell Publishing Edition o al percorso tailor-made di consulenze con Fabiana. Ma non finisce qui. Perché quell'offerta assolutamente scandalosa che termina il 31 marzo alle ore 23.59 aveva una serie di regali che continuano ad esserci. Quindi, oltre a tutto quello che già avevo promesso, ci metto in più le mie consulenze private e una nuova soluzione. Una soluzione per essere eseguito 24 ore su 24. Sì, hai capito bene. 24 ore su 24 per i prossimi 60 giorni sarai seguito pedisseguamente passo dopo passo per realizzare il tuo obiettivo. Quindi, se ti interessa, e ovviamente ti interessa, contatta subito il tuo consulente di riferimento o vai su www.mindsetperkdp.com Mi raccomando, affrettati e come sempre, al tuo successo!